Bando di selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico presso il comune di Castellabate. L'assunzione a tempo parziale ed indeterminato è prevista per l'area terza, governo del territorio, patrimonio e demanio. La procedura concorsuale, che comprenderà una fase di preselezione, una prova scritta ed una prova orale, sarà gestita dal comune di Castellabate. Per partecipare alla procedura selettiva e dunque per essere ammessi, i candidati devono essere in possesso, piena l'esclusione, di diversi requisiti, avere cittadinanza italiana, essere in possesso di un diploma di laurea specialistica magistrale, nuovo ordinamento o diploma di laurea, vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o equipollenti, avere un'età non inferiore a 18 anni compiuti, avere il godimento di diritti civili e politici ed essere immune da condanne penale o procedimenti penali, essere in possesso di un'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione, non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per i concorrenti di sesso maschile invece, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, avere una conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore. Le domande di partecipazione devono pervenire, piena l'esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dei correnti dalla data di pubblicazione dell'estratto di bando, nella gazzetta ufficiale quarta serie speciali concorsi ed esami, pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 12 del giorno 11 febbraio 2019. Per maggiore informazione è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Castellabate.